11 gennaio giornata di incontri di impegni per l'esecutivo confederale della USB dopo una settimana di occupazione e presidio alla struttura del Sant'Anna Ospital unitamente ai lavoratori, ieri si è partiti dal Consiglio Comunale. Dopo la riunione dei capigruppo con la USB alla sede del Sant'Anna Ospital, ieri il Consiglio Comunale ha adottato una delibera di indirizzo contro la chiusura ed il mancato accreditamento della stessa. Atto politico per dire ai commissari regionali e dell'ASP di Catanzaro che la città non si può permettere di perdere 300 posti di lavoro così come nessuno permetterà di rinunciare a perdere il diritto alle cure cardiologiche fornite dal Sant'Anna Ospital. Pomeriggio incontro con il commissario alla sanità, il dottore Longo, ed il capo dipartimento regionale alla sanità, il dottore Bevere. Riunione cominciata con un arroccamento del commissario, cui crediamo pure informato male, sul mancato accreditamento, sulle mancate richieste da parte dell'azienda già dal 2017. Fermo restando che l'ASP, pur in mancanza di richieste, ha pagato lo stesso le attività del Sant'Anna Ospital solo 24 dicembre 2020, si sono accorti che mancava la richiesta di accreditamento. Cosa peraltro smontata dal commissario con una serie di PEC inviate e mai corrisposte. Con ampia trasparenza come USB abbiamo messo in mostra prima il dato occupazionale della città, editati che il Sant'Anna Ospital ha accumulato nel solo anno 2020, con tutte le limitazioni Covid, meno 47% di tutti gli interventi regionali al cuore. Abbiamo avvalorato la necessità dell'accreditamento alla luce della sentenza del giudice di Catanzaro con la nomina di un consiglio di amministrazione con l'indirizzo di prosecuzione delle attività in attesa della conclusione delle indagini a cui l'azienda è sottoposta, che per quanto ci riguarda, che ha responsabilità, paga. Non certo il personale. Del quasi completamento delle prescrizioni richieste al Sant'Anna Ospital, si presuppone che se l'Asp chiede adeguamenti è implicito il proseguo e giammai lo stesso giorno la chiusura. Conclusioni dopo due ore di discussione, il commissario è apparso molto più convinto della necessità dell'accreditamento anche per riportare Ilea a parametri elevati nella regione. Ha chiesto un altro po' di tempo per verificare anche quanto abbiamo proposto come USB di un traghettamento temporaneo fino a completamento delle attività giudiziarie per come è avvenuto in altri posti d'Italia. A domanda finale della USB, commissario, i lavoratori del Sant'Anna Ospital continueranno a lavorare? La risposta del commissario è stata, sto lavorando per la riapertura. Appena Lota, organo tecnico di controllo attesta l'esecuzione delle prestazioni, predispongo l'accreditamento. Oggi la USB deciderà il proseguo delle iniziative, per il momento restiamo fiduciosi in una ripresa dell'operatività del Sant'Anna Ospital. Le attività finora messe in campo hanno dato i primi risultati.